Con gli uffici stiamo definendo le ultime parti per arrivare all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e devo dire che stiamo lavorando su tre grandi tematiche che ahimè sono state causate dalla mia amministrazione perché abbiamo circa 480 mila euro da reperire all'interno del bilancio che per un bilancio come quello di Nareto non sono assolutamente pochi dovuti a minori trasferimenti dello Stato per circa 130 mila euro ad una sentenza di un esproprio ben conosciuto oramai di 250 mila euro e di una pendenza di 107 mila euro sul piano finanziario dell'immondizia sui rifiuti dell'anno scorso che noi non abbiamo voluto riversare sulle tasche dei cittadini e che appunto ci troviamo adesso a elaborare all'interno del bilancio. Tutto questo lavorio che stiamo facendo di giorno in giorno serve per non aumentare di una sola lira le tasse sui rifiuti ai cittadini perché ci accorgiamo, siamo sicuri che i cittadini in questo momento non riuscirebbero a sopportare un ulteriore aumento per cui stiamo vedendo come nelle pieghe di bilancio con una serie di risparmi e di razionalizzazioni della macchina amministrativa possiamo riuscire a reperire queste importanti somme. È un lavorio molto difficile ma lo facciamo soprattutto per e a favore dei cittadini. Sindaco, in sostanza cosa si andrà a tagliare? Non i servizi ovviamente importanti come quelli sociali? No, sui servizi sociali abbiamo anche qui una grandissima attenzione. Ci sono una serie di tagli all'interno delle spese che sostiene il Comune anche nel funzionamento degli uffici ci sono alcune razionalizzazioni che noi stiamo facendo partire sempre all'interno degli uffici, delle sedi delle spese che sostengono questi uffici abbiamo anche, questo grazie all'assessore all'ambiente Pierino Di Pietro abbiamo, stiamo vedendo dei risparmi proprio nella nuova bollettazione della Tari proprio per rientrare all'interno di queste spese e in più, ma questo purtroppo per il prossimo anno avremo dei risparmi sulla pubblica illuminazione forse riusciremo alla fine di quest'anno, non so, stiamo vedendo queste sono le economie che noi riusciamo a fare.